sai fare le analisi testuali delle canzoni apri tutte le porte stai andando forte apri tutte le porte gioca tutte le carte brucia tutte le scorte e fai entrare il sole le parole in rima sono forte porte scorte le parole in consonanza sono carte e scorte le parole in assonanza sono sole porte scorte nella rima sono uguali sia le vocali che le consonanti dall'ultimo accento tonico nella consonanza sono uguali le consonanti dall'ultimo accento tonico nella sonanza sono uguali le vocali dall'ultimo accento tonico tutti i versi di questa canzone sono settenari versi da sette silabe questa canzone è una canzone cantata nel saremo del 2022 da gianni morandi scritta da giovannotti è una prova evidente che le figure retoriche aiutano a ricordare i testi tutte queste assonanze consonanze e rime rendono la canzone facilmente memorizzabile e facilmente ricordabile si ricorda facilmente basta ascoltarla un po di volte che diventa facile ricordarla ciao al prossimo video vi aspetto a presto a presto a presto a presto